Perché dovremmo considerare nullo il vostro sacramento? Dovreste considerare nullo il nostro sacramento per un motivo molto semplice. Siamo divorziati da anni. Prima possiamo divorziare. Cosa? Di nuovo? Solo in un modo diverso. Per la Chiesa. Tribunale ecclesiastico. No, secondo me è solo un nome d'effetto. È un semplice modulo. Non immaginavo così tante scartole. Con quale frequenza svolgevate i vostri doveri coniugali? Ha mai pensato di riconciliarsi con suo marito Yadze che rinnovare il vostro antico legame matrimoniale? Io ho una nuova fidanzata. Malgosia ora ha un nuovo marito. Non per noi. Padre Marian dubita della forza della sua argomentazione. E allora adesso che succede? Niente. Che Dio vi accompagni. Qui leggo colta da una gravidanza inaspettata. Non capisco che cosa intenda. Chi viene colto da una gravidanza inaspettata? La Vergine Maria? La Vergine Maria è un' improv Babylonia. Chi viene colottomi?